buongiorno ragazzi qui una bella BMW per un detailing interni abbiamo già lavato la moquette interno è chiaro sempre dove il volante eccolo qui l'abbiamo smontato perché molto rovinato andremo a riverniciarlo ragazzi eccolo qua il volante finito riportato a nuovo toccato e riverniciato e niente adesso andiamo a montarlo ve lo faccio vedere anche da montato il volante per me è venuto molto bene abbiamo finito anche l'interno pulito profumato la macchina domani si consegna grazie a tutti